Sono Orbi e pensate che ho 60 anni, per me è molto faticoso venire qua anche perché sono di buona salute, ma sono per tutta convinta perché c'è un problema che, ci sono tanti problemi che sono al diritto di tutte le iniziative che ha preso l'area democratica di tutti questi movimenti che rappresentano oggi la manifestazione, ma ce n'è uno in particolare che vorrei approfittare di dire perché è invisibile, quello della magistratura dipendente, soprattutto per quanto riguarda tantissima gente che io conosco nel territorio di Catina, Tribunale di Catina, Popolo di Catina, con intervento della procura, con denunce alla procura di persona, nessun intervento c'è stato, c'è gente che non prova giustizia. Cosa voglio dire? Che non si tratta di magistratura di sinistra o di destra, si tratta di una magistratura che fa uso del suo potere per gestire i propri interessi, quali siano io non li so, però è vero che noi viviamo una realtà difficilissima anche in questo periodo.